La campagna è interessata da un flusso di correnti occidentali che a tratti determina la formazione di sistemi nuvolosi associati a deboli piovaschi. Anche nel corso di questo fine settimana l'alta pressione si manterrà lontana dal Mediterraneo, lasciando dunque la nostra penisola ad eventuali attacchi perturbati. Sabato 7 dicembre il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa, mentre qualche breve piovasco potrebbe interessare le aree montuose. Temperature senza variazione di rilievo, venti deboli, mediamente occidentali e mare poco mosso. Per domenica 8 dicembre condizioni di cielo poco nuvoloso con locali addensamenti lungo la dorsale appeninica dove potrebbe verificarsi qualche debole ed isolato piovasco. Temperature stazionarie, venti deboli nord-occidentali con tendenza a moderato rinforzo dalla serata, mare da poco mosso a mosso. Per la tendenza successiva da lunedì è previsto un nuovo cambiamento di circolazione a causa dell'affondo di una circolazione depressionaria di origine artica sull'Europa centrale e da qui potrebbe interessare marginalmente anche la nostra penisola. Rovesci anche temporaleschi potrebbero interessare la nostra regione già nella giornata di lunedì 9 dicembre con venti in rinforzo da prima da nord-ovest e successivamente da nord-nordest. Caleranno le temperature con valori che si porteranno lievemente al di sotto della media del periodo. Di conseguenza si abbasserà anche il limite della quota neve fino verso ai 1000-1200 metri. Ma per maggiori dettagli si invitano i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it